Immaginate una serie di gare in cui i piloti siano provenienti da diverse discipline Formula 1, NASCAR, IndyCar, Prototipi, Endurance Immaginate un campionato in cui l'auto utilizzata sia progettata per dar spazio alle qualità di ogni singolo pilota che siano fatte in modo da essere molto resistenti e immaginate un format di gare in cui tutta una serie di manche, di hit, chiamatele come volete che portino ad una gara principale Immaginate anche di poter correre su una varietà di circuiti quali ovali corti, ovali lunghi, sterrato, circuiti classici, circuiti stradali ed immaginate un campionato che abbia come obiettivo quello di tornare alle radici delle gare di una volta La corsa delle vecchie auto Cioè mettere in evidenza le qualità di pilotaggio di ogni pilota Ecco, questa serie esiste e si chiama SRX Superstar Racing Experience È un progetto fondato da Tony Stewart, Ray Evernum, Sandy Motag e George Pine che prende vita come idea nel 2020 e viene lanciato nel 2021 Un clamore pazzesco proprio per il format di questo tipo di esperienza di guida di queste superstars Perché vi sto parlando di questa cosa qua ragazzi? Perché iRacing ha appena annunciato una partnership di lunga durata proprio con SRX È una bomba stratosferica ragazzi perché questo tipo di esperienza non sarà una macchinina o due Perché poi alla fine una è la macchina Ma sarà proprio un format che prenderà il suo posto come hanno preso le NASCAR Come hanno preso le Hypercar Come hanno preso le ROAD Come hanno preso insomma tutte le series che vedete SRX secondo me prenderà questo posto Quindi questo è ancora una serie in più che vengono a inserire su comunque tutti i contenuti che sono già presenti Se poi pensate a tutto quello che è stato annunciato Se mi seguite l'avete visto nei video in cui parlo e annuncio le news di iRacing È un qualcosa di pazzesco quello che stanno facendo in questi sei mesi e quello che stanno annunciando La pioggia, vogliono potenziare il comparto grafico, ristudiare anche la gomma Infatti c'è l'ex sviluppatore della gomma di studio 397 che lavora con loro Tanto di cappello ancora iRacing Quindi ragazzi se questa notizia vi è piaciuta vi invito a lasciare un pollice in su Non esitate a lasciare un commento e ad iscrivervi al canale Ed attivare la campanellina per rimanere aggiornati ogni qualvolta butto un video sul tubo Ah ecco vi devo ricordare che ancora sono aperte le iscrizioni per il campionato su RFactor 2 BTCC ragazzi Mission Impossible Trovate le info in descrizione Noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto Ciao